Il modo di venire in Croazia solitamente dipende da dove viene il paziente. Se venite dalla parte settentrionale o centrale dell'Italia e volete venire con il treno possiamo aspettarvi alla stazione ferroviaria di Trieste. I pazienti ai quali conviene viaggiare con il traghetto consigliamo di venire nel nostro studio di Spalato e in questo caso vi aspetteremo nel porto di Spalato. I pazienti che vengono dal meridione e dalle isole principali scelgono di solito l'aereo come mezzo di trasporto. In questo caso organizziamo i transfer dagli aeroporti di Trieste, Treviso e di Venezia però anche dall'aeroporto di Zagabria dove si può arrivare con il volo diretto da Roma o Milano. Ci sono anche pazienti che preferiscono viene con mezzi propri fino al nostro centro, in tal caso assicuriamo il posto in garage. Se volete venire nel nostro studio di Belgrado potete scegliere il volo diretto da Roma e Milano.